Ciao a tutti i lettori di SmartphoneLab.it stiamo registrando questo video da Galaxy Note 7 alla risoluzione del Full HD a 60fps oggi è una giornata molto ventosa quindi è anche un ottimo metodo per testare questi microfoni ci muoviamo un po' per vedere anche la stabilizzazione del video e facciamo uno zoom su quel paletto della luce ci continuiamo a muovere un po' e facciamo anche un controsole così vediamo l'adattamento della camera video girato da Galaxy Note 7 alla risoluzione del 1080p a 60fps